Avevano nascosto la droga in una pagnotta di pane pensando di riuscire così a farla franca, ma sono stati comunque scoperti dai carabinieri di Cortona e per due uomini di 28 e 35 anni, entrambi con precedenti, ieri mattina sono scattate le manette. È successo nei prezzi dell'uscita del raccordo autostradale di Castiglion del Lago, dove militari nel corso delle normali attività di controllo hanno visto avvicinarsi un'auto con un'andatura sospetta. I carabinieri hanno intimato l'alta, ma il conducente invece di fermarsi è scappato a tutto gas. Da qui l'inseguimento. Durante la fuga i militari hanno notato che dall'auto era stata lanciata una busta prontamente recuperata, contenente appunto una pagnotta di pane svuotata del suo interno e riempita di hashish. Poco dopo i carabinieri sono riusciti a fermare anche la macchina ed è così scattata la perquisizione domiciliare. Nell'abitazione del 29enne i militari hanno trovato 10 grammi di hashish e 3 telefoni cellulari, presumibilmente usati per contattare gli acquirenti. A casa del secondo, il 35enne, proprietario di un ristorante a Castiglion del Lago, sono stati rinvenuti invece dietro un muro di cartongesso del garage 24 panetti sotto vuoto contenenti sempre hashish dal peso complessivo di 2,5 kg, nonché 22 ovuli contenenti cocaina per un peso di 280 grammi. Lo stupefacente era purissimo ancora da tagliare quindi ne sarebbero risultate numerosissime dosi, circa mille se non di più. Oltre alla droga i carabinieri infine ne hanno trovato e sequestrato 700 euro in banconote di vario taglio ed un bilancino di precisione.